Amici dell'Osservatore, buonasera, siamo in diretta da Moliniani Forum di Porta e Terra per il prepartita della sesta giornata del campionato di Serie B tra Libertas, Frivorno 1947 e Basket Cessna, un prepartita molto corto naturalmente. La partita inizia alle 18, una giornata di campionato di Serie B che è iniziata nel migliore dei modi per la palacanestro Livornese, visto il successo ieri della PL Livorno su Robust e Spides Varese per 83-44. Stasera scenderanno il campo appunto la Libertas Livorno 1947 e il Basket Cessna, una partita importantissima per entrambe le squadre, la Libertas per dare contenitale a successi casalinghi e conquistare la seconda vittoria consecutiva davanti al pubblico amico e la terza vittoria consecutiva della stagione, mentre per il Basket Cessna che sicuro scenderà il campo con il costello stradenti, conquistare una vittoria nel momento peggiore della stagione. Per la Libertas, per gli Amaranzo c'è una segola in più che è caduta in queste ultime ore, ovvero l'infortunio a piede a Marco Ammannato che oggi non sarà della partita e che starterà molto probabilmente anche le due prossime gare. Il match inizia alle 18, noi lo seguiremo sul nostro account Twitter, mentre il nostro prossimo appuntamento qui dagli spalti, dall'impianto di Porta a Terra, qui sulla nostra pagina Facebook sarà a fine partita con le dichiarazioni dei protagonisti del match. a topo, aspettate!